Ah, cosa vuoi, Maria Robi? Ci potessi pensare? Ma che è successo? Niente, stamattina ho incontrato un amico per la stessa... Autola! Che sta? Hai mantenuto il metro di distanza? Sì signore, e ho fatto di più. Mentre lui parlava mi faceva finta di guardarmi alle spalle. E pure lui ha fatto lo stesso, persone intelligenti. Abbiamo parlato per più di mezz'ora. Che vi sei detto? E chi ha capito niente? Ma niente. È chiusa.